Modas, sas bogas de esos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Su tempus de hoy, su passato e su tempus benidore de su canto a tenore, contados da esos cantadores e dai Bustiano Piloso. In questa puntata Bustiano Piloso chistiona da con Alessandro Zanna, cantatore a tenore de bene tutti. Paris fa e dana de comente Alessandro ha cominciato a cantare con sus amigos en Bidda, con no skinne ancora su tempus de canosi cantajada en Silleri, provane salbogas con sus companzoso e una volta prontoso decidine de picare a palco. Poi Alessandro salse en erazion el noasa su un plus pago interessadas a cantare a tenore, fin si scadua sempre plus pago occasione de escultare cantoso e de provare a cantare. Escultare de boscomo sal resonada de Bustiano Piloso con Alessandro Zanna. Alessandro Zanna, Bogue e Mesaoghe, in su denore e in bene tutti, canto zannos tenese? 36. E cominciai ad entrare in tempus, ad essere mannito? Eh sì, in ora no. E come canto bisese, cantatore a tenore, dai te datasi imparato? Ma, ha po' cominciato a pisese, da ero una bindichine annos. Ma, ha crustare denore e ha pesare gai, carchi oge, fin se scarcando prima. A sublimamente, la prima orta che ha po' cantato in carezzente, hai ho batto ordigannos. E ho batto ordigannos, fin di festa di Santa Rosulia, in Bidda, e bai a tenore in barracca. E tanno bai a tutta in temana, dei idei stranzi spuro. E non mi chiedo graffato in mezzo... A pesare oge. A po' pesare oge. E non, è bella proseguida. E dai, ho spartito, dai. Però, non vado a crustare denore, se io comunque cantaio qualche cosa, dai prima burro, dai. Quindi, primi dio, proprio. E tanno ho avuto i mulnarski che ha colato, prul de vint'annos. Prul de vint'annos, ho, de esperienza, de cantare in bene tutti. E poi, che so scompanzos, puro, no? Com'è anche se i bosseggi si è organizzato su primo tempus? Ma, a prima orta, proprio, n'avamo manco biviso da denore completo. C'è, magari, fiumos in trese e non buschiamo mai su e battro. Entraendo una contra, è besiato uno basso. Entraendo uno messo oge, è besiato una contra, insomma. Poi, a questa età, magari, non si comprendia bene, i teo che poteva fare, i teo non poteva fare. Ma, cui subite? In quale senso non si comprendia bene i teo? Pari a chi li poteva essere esa contra, invece, poi, se ti scoperto che poi poteva essere mezzo su basso, oppure… Ah, che avvi zilgai minore, scrivi cambienti esa oge. Eh, esatto. Ficcussedate, insomma, bambini, chi sei, chi dai sette anni, non so ancora chi… E comunque, a prima volta, sì, fiumos tutto companzo, tutto più o meno fedale. Poi, qualcuno si è ritirato, non va seguido e poi, stinque che si è cominciato a formare su gruppo, su companzia che siamo comodi, che poi ha seguido, ha cominciato a pegare al parco, ha fatto un'udere, un timulo fisso, dai. Lo sei disorganizzato da fare uno tenore fisso. E oggi ha fatto serata, spuro, in palco. Eh, io sono già qui, hanno cominciato a pegolare, tanto, ma dappi tu, insomma, chi è stucato da fuori, chi è non che vi sempre. Tra una cosa e l'altra, abbiamo esordito su 2019, su 2019, e abbiamo cominciato a frequentare… E canto di noi, sui parco, vinti, 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 vinti anni. E' una di chi ne hanno, stanto, dei cantoni in vita, di imparare, no? Eh, sì. De canto se zizia, piccati al parco, finti già abbastanza arrodati, ecco. E ho bevi, perché hanno improvviso degli altri, perché tutti gli altri sono tutti più minori di me, mancato di vinti anni, però sono vinti arrivati a poi, appunto, a cantare. Comunque, sì, siccome l'ho fatto questo anno, su 2019, abbiamo cominciato proprio a vestire in pubblico, dai. Se la situazione del Zofano, però se sta firmata in bene tutti, come intendeste questo? Firmata è un mio lavoro, a parer mio. Poi, questa generazione mia, già a volte non ha rischi di chi non va in piazza, o chi bisogna e non bisogna. Nel senso che vado in un gruppo, di Zofanos che potrebbero essere appassionati puri. Abbiamo fatto caricarvi un progetto, che si scola, e non è più una bella partecipazione, insomma, è più interesse, però poi è restata una cosa che quasi si è firmata a cui. La passione è magari besta, in fondo, però è di seguire, magari è di seguire a cercare, è di spinta a un vago, magari in questo tocca dare un spuro, per un manito, a dare un vago, una mano azzuta, se si potrebbe, da un'altra. Però, no, da esattura, tocca a chi è che è di imparare, a chi è appassionato, a fare spesso, che abbiamo fatto tutto, a si proporre il suo secco. E abbiamo fatto, come in tutto il mondo, siamo a ragionare di questa questione, sul cambiamento che abbiamo stato, del suo tempo, abbiamo, no? Azzico ha cambiato il suo rapporto, e manca una volta questa occasione di cantare, mi pare che a me, no? O fino a se un vizio possa appassionare a chi lo intende, a su tenore. È davvero, manca questa occasione, abbiamo visto un nuovo spuro, e, o, fai da Brome, che, ripeto, dopo 36 anni, è arrivato un caso, appassionato, con il suo avviso, è vero, se intendi, o da altre persone, per la mano, o se si potrebbe, di andare su via del babbo, sulle occasioni, prima di Bruso, questa persona, di Bruso, è diversa persone, di diversa compagnia, quasi in cada compagnia, si che buscava, uno di un'ora, uno di un'ora, si che buscava, sulle occasioni, sono diversas, se la gente s'è di Bruso, vai per il luogo di Spuntino su di Giorgio e su di Giorgio è come a Bocchieri di Giorgio ha fatto una festa fino a tutte le feste che si aspettavano a tutti i anni e quando si paghavano ha fatto una festa e la gente sicuramente ha fatto il modo di cantare e la gente ha fatto anche la gente sicuramente come su Giorgio è difficile che la storia e la storia da vivere come avevamo prima sicuramente e tu hai il tempo di cantare in Silleri per spagola sconnotto? Sì, è un po' sconnotto però in un periodo forse di cambiamento come avevamo prima e anche in Bidda fai vai a Silleri chi fa chi ha piacere fin da c'è a bicantare a noi e fa chi ha piacere a chi è più frequente ma non è adattato a chi è proprio non ne chiedeva la sintesi ma non ne chiedeva la sintesi è fin morbido quasi non pago come un elemento di disturbo ebbè una realtà che è il fatto difficile ma a Savino è il suo sconto ti sembra di importante questo da noi che ti andrà dai nanti si buite certo questo è importante è medio importante e non pago è una cosa verità noi è una prima persona ma sono scompanzo il mio spuro se abbiamo cercato di seguire fin da sprogusso non lo intendiamo quasi come un dovere a parte che la passione uno è la passione e andrà bene però non sentiamo appunto una specie dovere di non farvi perdere questa cosa io la poco notte già in un tempo appunto di cambiamento che non ha però vedo il rischio di perdere in birra comunque questa gente che canta iada si è diventata per spaga meda come dicevi prima queste occasioni appunto sono attenti quindi non è che la nostra tradizione è che la nostra è quasi assoluta e quindi questo importante progusso ha maggior ragione progusso tocca della della montennere della seguire a praticare però quanto possiamo che in tutto ha la difficoltà di scrivere uno come noi siamo in un gruppo di battere non abbiamo nemmeno in birra siamo tutti che fuori anzi se uno è in birra e se l'altro siamo tutti fuori 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 quindi diventa sempre più difficile chi è il ritmo di vita di come chi è fuori 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 famiglia chi è tutto hanno stato a boiare hanno stato a cattare tutti parisi però nonostante questo siamo che nonostante 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 avviene questo sconto inteso da ora sembra che si si mette da terzo tenore se ottene qualità sua no? come ti 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 piacere come funziona così te cantate il tenore intanto in bene tutti su la moda nostra noi la moda nostra è molto semplice è una moda seria basata sul canto principale e importante è la seria la seria che è fatta di steri e di tirate anche sul canto base poi bisogna fare bocchini di ballo su basso dorato su basso trincato sa danza e poi naturalmente commentato tu esor muto ha una differenza da sa danza è commentato su dillo no si si mi è è un ritmo escuso è deve essere escuso deve commentare su dillo dai commentare ritmo su ghi natural bill lina randillo si 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 è 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 commentare tempus poi su modo dello cantare mancare su stress da zico differente ascolta e po' sudempo il benidore itte narra stue itte 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 bivote capitare a nione l'ischi di commentando su tempus da o a cras narro brusk attiru itte bidi acerrere appare stou po' pottere ponne storre in moto a zico de 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 cantare de bair occasionale de cantare eh non è semplice non è facile cà è stato sempre uno una tradizione che comunque si è sempre tramandata aurigra e dunque è difficile appunto come te vi vio nenne prima per sordofano avere questa occasione di poter intendere gente per un mano di isso che imparano a cantare dunque tocca come te vi nenne una potrebbe essere noi che chiamiamo dei spingere in qualche maniera cioè coinvolgere appassionati o pro sordofano che chiamo che sono interessati a chiamare a far partecipare in noi e altra cosa potrebbe essere pur tramite esas escolas a cercare di comprender la nostra tradizione nostra non solo lezare sui libri che andano bene con saburo però devemos iscrivere fino a 19 non es morbi sido noi e sicuramente su canto a tenore è una cosa di prima importanza ascoltare sicuramente al nato qui ha il fatto che vince tenore in palco ha cantato in Salfesta in Sardegna qualche rassegna di tenore se gai ma poter importante tenere uno gruppo fisso che canta di al palco o è più importante cantare in vida che poter espruso tende di chi è 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 se è più rilassato se è più tranquillo se è più originale appunto ecco quindi il modo di cantare soprattutto per chi è più pesa bocca è più più sereno più tranquillo è più sereno è più naturale sapevo la giusta discursa andrà bene la serrammo il cuo inoche se non la parliamo tutto su sera e ti dò grazie a poco questa ragionata poco questo conto del suo denore e del bene tutti questa esperienza tua personale e del suo scompanzo stuoso non abbiamo il nostro numero del suo denore Santa Rosulia l'abbiamo sposto siamo esordati e salvezzi Santa Rosulia appunto è tanto l'abbiamo scrivendo un discurso del numero è tanto a seguire il suo denore di Santa Rosulia e a tornare a cantare per il documento di Bindappacomo grazie grazie da il suo concordo e il suo connoto su podcast De Modas è un lavoro di SISRE istituto superiore regionale etnografico di Salsartegna di Salsartegna di Salsartegna di Salsartegna di Salsartegna di Salsartegna